Amore, quello in fondo è il Castel Sant'Elmo, vedi San Martino, là sulla sinistra, sulla destra qua hanno fatto queste barriere e non si vede più niente, mamma mia quanto è brutto quella costruzione russa invece, sai che cos'è? è una casina russa quella? no la casa El Volto Santo sì la chiesa El Volto Santo sì sì ecco il suor, è normale no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.